è un piacere vedervi qua insieme al pubblico dopo qualche annetto che non ci siamo visti ci hai fatto stare anche in pensiero tutti superati, grazie al Signore alla Madonna e alla buona volontà e alle preghiere di tutti quanti ci vuoi raccontare la storia di Santa Maria del Castello, della tua Santa Assunta Maria Assunta? allora la Castellana uscì a Monte Santa Maria e disse grazie, guarda dei figli tuoi perché i miei mi guardi Grazie, chiamai Carmela, guarda dei figli tuoi che voi mi mandi poi Carmela chiamò Assunta a Baciamarete dicendo Assunta guarda dei figli tuoi perché guarda dei miei ci auguriamo che la Madonna, veramente, porti l'amore è stata bella l'orchestra perché è un ensemble non solamente di strumenti ma di nazionalità russi, albanesi, ucraini hanno la nazionalità italiana perché sono 20 anni che vengono quindi ci auguriamo veramente che ci sia anche la pasta durante la carpe c'è stato quel gruppo di colombi di colombi che volavano come la colomba di Noè che portò la pasta auguri, buona festa a tutti qua grazie grazie